benvenuto nel bazar atomico un podcast per imparare di tutto da chi ne sa più di tutti mistici scienziati imprenditori eroici maghi filosofi esploratori e artisti uomini e donne straordinarie selezionate per la potenza e la follia dei loro progetti indipendentemente dal numero di followers che hanno io sono davide francesco sada sono l'autore del bestseller la felicità fa i soldi e dal 2010 dirigo l'accademia di formazione finanziaria money surfers la mia vita è sempre sembrata un bazar ho provato di tutto sono stato un wannabe rock star un giornalista un regista e persino un rampante marketing manager e nonostante mi sia sempre impegnato a fondo i risultati che ottenevo erano sempre scarsissimi caduto in depressione iniziai a divorare libri di self help un sacco di fuffa ma poi un giorno in uno di questi lessi una frase di jim ron frase che cambiò la mia vita per sempre non siamo altro che la media delle cinque persone che frequentiamo più spesso fu come un'esplosione atomica nella mia vita non accadeva nulla perché per un mix di superbia e paura di uscire dalla mia comfort zone sociale tendevo a fare tutto da solo o con le persone che conoscevo già quando mi sono imposto di incontrare e collaborare con uomini e donne straordinarie che non conoscevo ancora anche la mia vita è diventata altrettanto straordinaria per questo ho creato il bazar atomico un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo buone deflagrazioni siamo nel 2022 e i momenti più belli della mia vita ve lo devo ammettere sono questi quando alla sera a cena io e mio figlio che tra l'altro oggi è ovviamente presente in studio ci guardiamo i video di chimicazza chi è chimicazza è alessandro classe 93 e guardate che bio ci ha mandato è un chimico organico sintetico di perugia città nella quale è cresciuto ed ha studiato fino alla laurea magistrale tra l'altro poi anche col pucca ne parleremo perché diciamo città anche dove il pucca ha studiato dopo la laurea è partito per il train ship recandosi in vallonia belgio vivendo la desolazione la sporcizia e l'umidità nord europea sfiorando il tracollo psicologico ma uscendone fortificato attualmente lavora come ricercatore nella splendida bologna e da sempre si dedica quello che vediamo noi su instagram a esperimenti chimici homemade che spesso si trasformano in palle di fuoco e distruzione dice di essere affetto da innocua piromania alessandro e di recente ha cominciato a produrre dei video appunto che possa su instagram e tik tok a tik tok non lo seguivo ancora dove condivide questa sua passione per la chimica e quando tutto torna tutto torna e anche surfista amatoriale nonostante provenga dall'unica regione a sud del po non toccata dal mare dedica al surf le ferie estive ed ingenti capitali restando sfortunatamente una pippa questo l'ha scritto lui quindi ho trovato il compito già fatto quello della introduzione vorrei ricordare a tutti quanti che questo è il bazar atomico ed è un prodotto della mia azienda di formazione finanziaria consapevole money surfers dove dal 2010 insegno la felicità che fa i soldi ebbene sì invertendo i fattori il risultato cambia moltissimo vi ricordo anche che la regia è curata da giovanni valentini videomaker raggiungibile su giovanni meno valentini puntocom giusto sì che il nostro web wizard in studio e mario piccaluga fotografo raggiungibile su nobile digitale punto com scusate ma c'è la telecamera che mi impalla il testo che il mio styling è curato come al solito da tiny idols e che in studio beviamo solo caffè carnera adesso rilassati e goditi lo show siamo di nuovo qua alessandro questa è la seconda parte di una puntata già andata in onda in onda si può dire in onda buono lo so online dalla onda alla linea volevo chiederti una cosa ma giustamente adesso sono dimenticata perché stiamo sperimentando questo nuovo foro tu cosa ne pensi del fatto perché tu fai dei video veloci no ma l'idea di fruire tu che sei della una generazione diversa dalla mia l'idea di fruire di long cosiddetti long content che tipo di reazione ti provocano ti dà ansia il fatto che questa cosa sia lunga cioè oppure no ma a me per nulla io sono un gran fruitore di long content su youtube infatti mi piacerebbe probabilmente poi sbarcare su youtube per fare dei contenuti nile red lo segui nile red lo segui nile red è una leggenda nile red è una leggenda si e lui fa sia long che short si ma il medio di media lunghezza diciamo su una ventina di minuti o long gli ultimi sono ormai ne fa pochissimi di video ma fa anche video di un'ora ha fatto delle cose ha estratto ha trasformato i guanti di plastica in salsa piccante hai del cioccolato in bocca adesso finisco hai del cioccolato in bocca un po di cioccolato di nile red in bocca fatto con le mascherine a proposito dovetti cioè come fai a rimanere informato sul mondo della chimica cioè che tipo di dieta hai online allora informato sul mondo della chimica che ho letto ho visto che tu citare anche ricerche quindi sei una persona che ancora minima parte ripeto se ci si vuole informare per bene bisogna andarsi a scartabellare tutto quello che c'è disponibile online vado su delle piattaforme specifiche tipo pubmed se qualcosa di medicina per leggermi review per leggermi articoli oppure anche semplicemente google scholar va benissimo pure anche altre piattaforme per le quali ho l'accesso grazie al mio lavoro alle quali ho l'accesso grazie al mio lavoro che sono semplicemente questi enormi raccoglitori di articoli quindi qualsiasi diciamo dubbio cosa che ti viene da pensare te la vai a controllare lì cerchi qualcosa se c'è perché non è detto che tutto quello che cerchi ci sia altrimenti diciamo invece per una fruizione più diciamo così per funky esatto funky si youtube è un mare magnum di contenuti per rimanere su quelli italiani perché poi dopo se no vado spazio anche troppo cioè vado a finire su dei canali che non so come come mai mi ci sono iscritto però mi piace la roba che ti proponevo ma tipo tom stanton che praticamente è uno che è un ingegnere guardo lui perché lui è il fanatico di youtube della cumpa tom stanton spaziale fa sempre questi marchi ingegni arzigogolatissimi adesso si spiega perché hai scritto composite material no a composite material crafting perché io mi facevo le tavole da surf cioè me le costruisco no si è una figata ma come si fa a fare una tavola da surf prendi o il poliuretano il polistirolo espanso o il polistirolo quindi le long board no no anche short ti prendi l'estruso xps si chiama il materiale e te lo lavori tutti fai lo shaping con come carta vetrata tutto a mano sì io tutto a mano quelli bravi usano le pialle elettriche ovviamente però usano un materiale un po diverso si chiama clark foam che è sempre un materiale sintetico e tu dove lo compri sto materiale ma quello lo compri in brico insomma sì si trovano blocchi il problema è trovare dei blocchi da almeno due metri di lunghezza in modo che poi puoi accorciare quindi non è una polvere che puoi scaldare cioè già fatto puoi farti anche lo ma ti devi fare lo stampo prendere il poliuretano liquido farlo reagire farlo gonfiare cioè devi avere uno stampo ti devi costruire uno stampo è molto più facile comprare il blocco rettangolare di xps che è il polistirene estruso e poi vai marlo tutto grattarlo via ti dà una forza allora io quindi te le sei fatte tu le tue tavole sì 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 no vabbè ma sai che sei la prima persona che conosco che le taglio con l'arco a caldo di solito batteria da 12 volts della macchina corda della chitarra si scalda non ci credo ma no ma devi fare il video è lo so devo fare il video quello mi piacerebbe farlo c'ho anche un po di materiale da parte per poter fare il video ma è una roba talmente stagionale il surf per me che appunto se perdo la finestra di tempo dell'estate anche la reticolazione della resina epossidica sopra diventa complicata perché se non ci sono le temperature giuste non reticolano i giusti tempi è un po una rottura però aspetta però come funziona sta cosa su una corda di chitarra si ti fai un archetto elettrico quindi prendi un bel pezzettino di legno ti fai una una doppia l diciamo una cosa così e qua ci metti la corda della chitarra oppure un filo di nitinol nicrom se lo compri online costa veramente poco ci attacchi due morsetti con la 12 volts della macchina è già tanti ampi cioè puoi rilasciare tanta corrente quindi forse un po troppo però magari un caricatore da 20 volts per il computer può andare bene quello per effetto già si scalda poi vai a ritagliare il blocco di xps proprio seguendo delle forme che ha messo sui lati e quindi gli dai il rocker la curvatura della della tavola poi te lo tagli a metà per lungo ci metti la sparra di legno quindi diciamo il lungherone che dà rigidità e poi dopo sei lì a sgrattare per due giorni finché la forma non ti non ti attizza e dove hai imparato ma mi verrebbe da dire forse su youtube pazzesco mi verrebbe a dire su youtube cioè ti rendi conto è tipo breaking bad no no ma è pazzesco cioè comunque questa cosa è clamorosa c'è uno che può imparare da solo a farsi le tavole da serve ma anche questi attrezzi imparato anche quello sì però sai c'è un pattern non lo so ok è una cosa che già tu avresti intuito che si faceva così esatto esatto esattamente così non l'avrei detto meglio cioè ogni volta che mi metto a fare qualcosa di ingegneristico con le mani di costruire qualcosa dato che lo faccio da quando c'ho veramente tre a veramente tre anni c'era mio nonno c'era un'officina bellissima e lì dentro ci ho passato delle ore io d'estate ma delle ore a smontare tutto rimontare tutto e quindi a perugia questo non sia gubbio a google dove si mangia bene contro tutti i pregiudizi gubbio è la splendida città dove si mangia benissimo e poi uno che va a mangiare il pesce ci sono tantissime altre cose sicuramente anche più buone che si possono comunque tutto visto prima quando sei entrato che avevi la sigaretta se vuoi puoi fumare fumiamo ti fumo io un po sì che sto veramente in astinenza da nicotina durissima ti faccio compagnia e quindi ti dicevo che proprio avendo lavorato su sta roba ma anche da bambino se ci cresci un po dentro poi dopo ti viene naturale oppure forse ci cresci dentro perché ti viene naturale non lo so se è nata prima l'uovo la gallina però sono sempre stato uno smanettone beh però cazzo la tavola da surf in effetti è un campionato non da poco ma poi dopo perché cresci cioè all'inizio parti con le pezze poi dopo diventa a fondo l'alluminio poi dopo diventa ma vuoi vedere che la tavola da surf invece di spendere 500 euro che non ho perché è sempre quello il motore non ho i soldi per comprarlo se lo voglio me lo devo fare mi devo disagiare e aggeggiare per farmelo e quindi te lo fai poi scopri che spendi di più e quindi alla fine te lo compri perché ormai nella grande distribuzione conviene quasi sempre comprare non più farselo però impari un sacco facendo certo che tu è questa è una cosa che io proprio non ho che non so da dove ha preso mio figlio in realtà lo so probabilmente dalla mamma e dal suo papà quindi dal suo nonno invidio tantissimo che io con le mani sono veramente poco capace e quindi rimango affascinato da quello che fai ma invece mi piace molto approfondire questa cosa visto che il surf io l'ho iniziato in tarda età e quindi faccio cagarissimo pure io sono una pippa però cioè hai mai provato dov'è che vai in italia vada così in italia vado da qualche parte grazie al mio amico manfredi grande manfredi è lui che mi ha fatto scoprire tutto vado di solito sui costi del lazio oppure toscana toscana dove livorno rosignano solvei dove c'è la trocia bianca noi siamo stati a baratti a fare il bagno tre giorni non va bene però perché lì è un golfo dove le onde non arrivano però si si va più sulla parte più a nord si va all'illatro ma noi in toscana non sono mai stato sono andati in liguria per noi è più comodo ad andoro no a varazze è un po troppo pro nel senso per me però si vanno a varazze e poi si va il top del top è levanto però non ci sono mai stato in liguria però beh dovrò andare se ti capita così che puoi andare vai a levanto che è anche più vicino per te e però un po ma detto che un puttanaio oramai cioè sì ormai tipo guarda lo sport più inflazionato no ma è pazzesco c'è quest'app che si chiama magical magic seaweed che è la fine perché la gente vede le onde e tipo levanto è la migliore per l'onda migliore che c'è in italia solo che ci sono 150 200 persone in acqua di cui 20 sanno surfare le altre fanno solo le foto per instagram esatto io sono parte di quelle 200 che non sanno surfare però stanno lì a rompere il cazzo perché anche lì non me ne frega niente sto lì ma vanno a levanto perché c'è in liguria almeno poi non so se in toscana è così c'è la cosa dei local cioè praticamente il localismo è potentissimo in sto sport è un disagio il localismo cioè rischi di beccarti veramente delle coltellate quando vai giù in schiamolo cos'è perché il localismo c'è questa questa forma di territorialità rispetto all'onda e alla costa da parte degli individui locali adesso non voglio tirarmi addosso le ire dei local io già ho addosso le ire dei local quando surfo perché sono una pippa in più se glielo dico pure su youtube però tanto ormai tanto al bazar non ci guarda nessuno stanno surfando questa domenica tra l'altro sembrerebbe che ci siano le onde pure troppo alte quindi ho letto tre metri addirittura tre mete troppo sì ma freddy mi aveva detto di andare a surfare ma io non posso questo weekend però sì no ma allora il local cosa succede io ho parlato con un po di surfisti che dicono che tutto sommato essendo in italia noi abbiamo invitato anche dei surfis quelli di vertical life che abbiamo fatto una puntata con loro dicendo che in italia fare surf è quasi una cosa di è una cosa di cuore perché devi andare avere il giorno libero proprio in quel giorno lì ed effettivamente se non sei bravo quelli lì diceva l'unico giorno che c'è l'onda mi viene a rompere i coglioni c'è non ha senso però non so dove sta la corretto atteggiamento di sicuro imparare a diventare più bravi aiuterebbe chiunque e compreso me stesso ma sei stato anche all'estero a surfare sì 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 assolutamente io le mie intere estati le dedico questa cosa qua sì sì la prima volta che sono andato all'estero a surfare che è stata con manfredi sono andato a biarritz è stata proprio una bella esperienza totalizzante poi eravamo super giovani quindi a ossenghor o biarritz no sono stato a biarritz poi sono andato anche a osgore ci sono tornato anche quest'estate a osgore a c'era enrico il mio socio di ma in agosto eri lì sono andato in agosto però ci sono stato un paio di giorni perché poi la parte preferita è sempre un paese vasco quindi già in spagna oltre i pirenei tipo zaraut bellissima mamma mia e poi la la asturia la cantabria e la galizia sono arrivato fino a alla corugna e poi un anno sono andato anche in portogallo e poi a vale al no sono stato a giù a peniche a peniche sai non mi vorrei sbagliare peniche e boh non mi ricordo tutti i nomi io ho pessima memoria pessima memoria però ci sono stato anche in portogallo mi piacerebbe andare alle canarie che non ci sono mai stato e mi piacerebbe andare in marocco e in indonesia tu sei stato in indonesia ma io ho visto che sei stato in indonesia allora quello che ha surfato tutti questi posti sono io davvero lui davvero cioè adesso ma va bene tutto marocco a gennaio è una bomba è già e l'indonesia sempre l'indonesia non si batte perché c'è talmente tanta onda che pure che c'è 60 mila persone in acqua si può surfare tutti è imbattibile l'unica cosa che il marocco non ci andrei io perché è tornato lui che è veramente uno squatter perché lui veramente dorme dovunque mi fanno erano un po troppo sporchine le spiagge sono sporche dopo che fai il portogallo vai là dici cazzo c'è puzza di fogna però l'onda immagino che dipenda anche molto dalla mareggiata perché lì sei proprio certi giorni veramente scoperto certi giorni proprio a tagasù a tagasù ok che è lì vicino certi giorni non si entra proprio in acqua perché c'è stiva un po d'acqua in bocca poi finisci all'ospedale c'erano altri giorni però comunque un po tutto sgarropato capito dici cavolo peccato e come ti è nata sta cosa del surf a con manfredi mi ha introdotto lui questo mio carissimo amico diciamo avevo avevo voglia di provare è uno sport che mi ha sempre intrigato vederlo però vederlo poi dopo mettiamo in azione e quindi le tue tavole no quella per fortuna insomma me l'ha prestata lui una tavola decente perché all'inizio faceva veramente delle schifezze adesso sono in grado di fare una tavola buona e mi ha portato no per la prima volta gli dissi io mio padre sta andando a fare il cammino di santiago va lì in macchina con un amico si porta dietro le biciclette avevamo una fiat ulisse stupenda macchina che non capisco perché uscita di produzione un camper praticamente sette metri di macchina e gli ho detto mi ha detto mio padre che se vogliamo ci lascia a biarrizze poi ci viene a riprendere 15 giorni dopo e lui ha detto dai dai organizziamo ma frate è sempre stata una persona ma proprio ma ma non sportiva di più cioè a lui non gli frega proprio un cazzo lui dice il giorno prima per il giorno dopo ah sì comunque domani vado in indonea vado a bali e tu gli dici ma come ma ma come possibile come quando l'hai organizzato ma no era un po che ci pensavo ieri ho preso il biglietto vabbè e quindi proprio così a cazzo dei cane come sempre e siamo andati là e lì mi ha insegnato qualcosa per cui è stato l'inizio avevo 18 anni appena compiuti lui neanche 18 anni 17 ma usi già le tavole più piccole o se ancora con le longboard come me no serve una sei piedi e due tipo è una short abbastanza voluminosa ma non troppo fisch l'ho abbandonata fisch l'ho abbandonata sono già su una un po più sottile ma è stato un diciamo un salto di qualità che ho fatto di recente vabbè dice che è una pippa ma è infatti no per chi non sta un altro livello di pippa vabbè ma che sento cosa ha detto lui ha iniziato a 18 anni infatti io infatti io 39 sì però capisci è sempre la questione quanto ti sei allenato nel senso io da 18 anni ho iniziato ma ci vado una volta all'anno e di questo passo 38 anni sarei comunque molto meglio di cioè seriamente ci vado una volta all'anno io a un certo punto voluto smettere perché ho preso un'onda che eravamo a bali tra l'altro sono rimasto sotto ho cacciato tre sorsate d'acqua e non trovavo più ero nel mondo del sottosopra quello di strangest things sì e lì sono uscito detto beh basta cioè sto facendo una cazzata poi lui mi ha detto no devi rientrare subito sennò non è il trauma fattro passare sopra dentro un treno altrimenti bisogna solo imparare a rilassarsi in quelle situazioni se sappiamo che sopravvivono a mavericks se c'è allora noi è un'onda che ti butta giù dieci metri e ti sfonda non voglio dire che cosa cioè se si sopravvive a quello vabbè quelle ci sono a nazareth e basta no no ci sono diversi posti mavericks è in california no scusa no vabbè surf allora la cosa bella del surf anche se fatta in maniera da cialtroni come noi è la sensazione che ti dà dopo quando finisci nessun orgasmo nessuna quasi nessun ma io direi prima durante e dopo cioè prima quando pregusti proprio questa attesa del mare della sua potenza della sua violenza e poi mentre perché c'è la mente è vuota perché è un'esperienza assolutamente totalizzante sì e beh ci sono tutti gli elementi perché caspia devi usare l'acqua poi c'è l'aria c'è il tuo fuoco che devi mettere come energia e no è veramente terapeutico una cosa pazzesca nessuno sport tipo io non io l'ho provati quasi tutti gli sport belli ma la sensazione di beatitudine che c'è col surf non so è un'immersione talmente totale forse l'arrampicata infatti faccio anche qui ovviamente arrampicate surf però l'arrampicata l'ho sempre vissuta come molto stoico come sport invece lo di surf e picureismo totale e divertente cioè arrivano queste ondate appunto e tu hai un orgasmo lì invece l'arrampicata è una cosa lunga si assomiglia il punto di contatto è la sfida con la natura con l'elemento sconosciuto è molto più molto più potente di te la gravità è molto più potente di noi poi sai cosa assomiglia assomiglia anche il fatto che come nel surf devi se sei un po' avvezzo sai che non puoi prendere tutte le onde soprattutto in alcuni spot perché sennò vai a finire in fondo ti dici porca trovi preso l'onda più sfigata devo ritornare nello spot di ma com'è che si chiama il punto nel break dove si rompono le onde e quindi devi avere l'occhio di prendere quella giusta e poi la stessa cosa nell'arrampicata devi guardare legge saper leggere la montagna vero sì ma poi soprattutto nell'arrampicata è proprio l'equilibrio cioè devi raggiungere questo stato di equilibrio perché lì proprio passi una soglia in cui tutto sembra impossibile e poi quando comprendi l'aderenza il cosa riesci a fare con le mani ma con i piedi soprattutto allora lì acquisisci proprio un potere in più e secondo me ti danno questi sport al contrario di altri la capacità di affrontare poi l'arresto della tua vita con un bagaglio pazzesco si riproduce copia in colla nella tuo lavoro nei rapporti umani no è incredibile sono assolutamente d'accordo e con il surf non lo vivevo non lo vivevo così tanto questa sensazione che dici tu invece con l'arrampicata si il fatto di tornare al lavoro il lunedì e è proprio avere la consapevolezza in testa di che ti fa dire ma io ero lassù cioè io ero a 25 metri da terra e sono riuscito a tenermi mentre mi cagavo sotto con le mani sudate a gestire mille cose agganciare sto rinvio con la corda quindi il mio capo che ha una testa di cazzo che non sopporto è un problema piccolo così in confronto a quanto mi sono cagato sotto ieri mentre stavo a 25 metri a terra quindi sì sottoscrivo ti aiuta nella vita aiuta veramente tanto tantissimo questi sport qua sono valgono più di mille libri motivazionali di autoaiuto di teorie perché sono una cosa corporea c'è anche tutto ciò che a cui diamo una valenza razionale psicologica può essere curato e affrontato meglio attraverso un esercizio sportivo che poi è anche di divertimento quindi perché soffrire cioè in realtà è una sofferenza che devi cercare tu e che è bella che ti dà terapeutica sì sono accomunati questi sport dal fatto che entrambi danno dipendenza perché mi ricordo quando arrampicavo cioè vedevo uscivo la sera vedevo una grondaia ma arrampicavo al secondo piano eh e te vedi gli arrampicatori che stanno lì che parlano e fa sempre questi gesti no anche anche la sera li vedi a da lontano che sullevano perché io esatto ma infatti poi anche quando si va nei luoghi di surf è interessante magari la gente non lo sa la sera non c'è nessuno in giro perché sono tutti stanchi morti perché tipo anche io sono stato invece lì a Lanzarote anche a Fuerte uno si immagina surfisti tutti i giorni no quelli alle 8 sono già tutte a letto che sono sfondati a tutto il giorno e quindi cioè poi ovviamente tazzano fumano eccetera però comunque non c'è quella componente di perdizione che effettivamente uno che magari vive una vita alienata e frustrante durante il giorno alla sera deve trovare uno sfogo esagerato di quella cosa di compensazione che è vero però questo secondo me è perché tu hai iniziato a 38 anni perché io con Manfredi a 17 18 anni ti sfondavi uscivamo dall'acqua dopo session di sei ore andavamo mangiavamo un pollo intero ci addormentavamo sull'erba e la sera si andava a fare il fuoco in spiaggia e a fare i bagoni no vabbè sto scherzando però però è vero c'è no io ne ho visti così nell'ostello lì in portogallo non tu cioè poi ci sono quelli proprio dedicati che invece vanno a dormire però ci sono anche tanti che devono fare devono succhiare tutto il midollo della vita proprio io ho visto gente con la birra in mano aspettare l'onda passiamo la birra la prendo io quello è bellissimo quello dai che stai con la birra aspettare l'onda è fantastico e beh come come nella finanza dipende anche tutto da come ti posizioni no? ah certo ma infatti noi il posizionamento prima dell'onda la prendi tardi è finita inutile che ci ha investito quelle energie fantastico no ma guarda è nata così cioè è nata l'intuizione questa cosa di associare la finanza al surf ma senza neanche pensarci troppo cioè l'idea di perché poi quando fai trading il mercato va su va giù va ad onde surf però poi dopo ho capito che invece c'erano tante analogie proprio rispetto alla tecnica cioè il fatto che devi aspettare il trade giusto quindi devi sapere aspettare cioè chi guadagna nei mercati finanziari non è chi fa più operazioni come nel surf chi prende le onde migliori non è chi le prende tutte ma chi sa aspettare l'onda giusta e la stessa cosa accade nel trading assolutamente è una lezione pazzesca infatti noi quando facciamo i corsi che tu hai visto portiamo la gente a Bali non è che lo facciamo per fare una cosa di moda eccetera no perché è la cosa migliore che puoi far fare a uno che vuole guadagnare su mercati finanziari e andare a fare surf perché è un allenamento che ti entra nelle ossa e che ti farà performare meglio non solo in finanza ma come hai detto tu anche in una vita convenzionale cioè ad affrontare meglio le onde della vita signore signore figo le cose che ho visto fare su instagram non mi sembrano pericolosissime giusto cioè tu hai un'etica nel senso perché ci potrebbero essere cose molto più pericolose tipo don't try this at home ti sei mai dato il rapporto conflittuale con l'etica o meglio con che cosa mostrare perché io vorrei mostrare tutto riprendendo un altro vostro ospite le parole di un altro vostro ospite che ho di cui ho seguito la puntata e che stimo moltissimo hai visto una puntata del bad sì polidoro ah ok salutiamo Massimo salutiamo non ha bisogno del mio endorsement cioè è proprio un uomo dal pensiero logico superiore lui a un certo punto dice però dipende se tu mostri qualcosa online che può essere per esempio come fabbricare una bomba e come farla esplodere e fa una smorfia del tipo e questo non va bene non so se ho interpretato bene le sue parole io su questo non sono d'accordo solo su questo punto non sono d'accordo con lui perché per me l'informazione tutta deve essere assolutamente libera e fruibile tutta non importa se una persona avendo quell'informazione può usarla per scopi malvagi diciamola così perché quella è una responsabilità tua di tu che fruisci il contenuto io quando ero bambino non avevo appunto a disposizione internet non potevo andare su youtube e guardarmi i video su come fare una bomba ma io queste cose le ho fatte io le ho fatte senza bisogno di internet senza bisogno di internet perché mi andavo a cercare le informazioni dove le informazioni c'erano sui libri sui libri di testo su racconti sull'enciclopedia in televisione ovunque ci fosse informazione io andavo a pescarmela e ho imparato a farmi i miei esplosivi la mia polvere da sparo e anche cose più pericolose io adesso non so cosa posso dire cosa non posso dire no tutto tutto ok infatti devi dirlo anzi sei qua per questo come cazzo si fa una bomba? nitrogliceria cari ascoltatori prendete nota in questi tempi duri la polvere da sparo l'avevamo fatta anche noi al liceo si andava in farmacia a comprare solo che poi il problema era che non esplodeva prendeva solo fuoco quella perché la devi comprime perché non esplode? perché non è un'esplosivo io avevo svuotato 100 raudi per fare la mia bomba e quello lì sì che esplodeva di brutto quello esplodeva sì ma insomma dicevo l'informazione deve essere assolutamente fruibile e libera per tutti quanti l'utilizzo che se ne fa è responsabilità di chi utilizza quell'informazione i minorenni non sono un problema mio cioè i minorenni io ero minorenne quando facevo queste cose mi sono messo in pericolo ho rischiato? sì non c'è una cosa che io ho preso nella vita se non rischiando qualcosa anche le mie dita le mie ossa la mia pelle io mi sono bruciato mi sono esplose cose in faccia mi sono intossicato sono esperienze che hanno costruito la mia persona sono arrivato a quasi 30 anni cioè mettere un airbag così dici evita le persone di fare un percorso evita le persone di fare un percorso qualunque sia c'è un diffuso e sempre più diffuso bisogno di garantire la sopravvivenza a ogni costo per tutti non sono d'accordo con la sopravvivenza a ogni costo per tutti e non sono neanche d'accordo sulla atraumaticità ad ogni costo per tutti i ragazzini non è vero non è non li porta su una strada migliore il non avere traumi tanto prima o poi gli arriva e se non si è fatto gli anticorpi è molto peggio secondo me sì non so se può essere elevato diciamo a metro universale però secondo me le cose stanno così e il fatto che mi vengano rimossi per esempio dei video mi scoccia al di là del fatto che il video non verrà visto al di là del fatto che io ho speso dei soldi del tempo per produrre quel contenuto e che non viene fruito mi scoccia per una questione morale morale non sono d'accordo con il proibire alle persone di farsi del male di vivere il trauma un po' come per il formaggio di impedire di avere la cagarella ma fai mangiare un formaggio raro delizioso se magari ogni tanto no però sono d'accordissimo è quello che si diceva prima della strada d'erba cioè scegli o rischi però ti formi ed evolvi oppure ok non rischi smussi tutto ma non cresci e questa cosa tra l'altro è il tema dei temi oggi nel discorso dei social media Elon Musk che è andato su twitter è andato anche per quello cioè perché era polemico verso l'atteggiamento degli Stati Uniti e poi in discesa di tutto l'occidente e poi anche dall'altra parte di selezionare quali erano gli argomenti che si potevano dire che non si potevano dire sui social media questo è successo dopo l'attacco a Capitol Hill dei seguaci di Trump che di poco stavano assassinando Nancy Pelosi e insomma e si dice che quella cosa lì fu fomentata ma non è che si dice è evidente da un batage social mediatico di fake news eccetera e quindi social media sono come un esplosivo che ma lo sono ma ma questa è stata una cattiva gestione una cattiva gestione del comportamento delle persone quell'assalto è stato possibile perché non è stata usata la forza politica perché non c'era la volontà di usare la forza politica per evitare quella cosa e poi non è stata usata la forza militare per bloccare quella roba là perché se non sbaglio e spero di non sbagliarmi ma quello che ricordo io e non prendetelo come verità assoluta ma quello che ricordo io è che non c'era uno straccio di guardia che ha impedito a questa orda di persone di impossersarsi di Capitol Hill questo è quello che mi ricordo e quindi non è stata utilizzata non è stato utilizzato lo strumento dello Stato per garantire la la sicurezza l'incolumità l'incolumità e la pace la pace si mantiene attraverso le dimostrazioni di forza se i dimostranti fossero stati trattati come dovevano essere trattati davanti a Capitol Hill cioè non potete entrare altrimenti ci sono delle rappresaglie che vi costeranno l'incolumità quello non sarebbe avvenuto ma non è un problema che sono secondo me e qui potrei sbagliarmi ok perché non vorrei farmi prendere troppo dalle emozioni però l'informazione deve essere libera libera nell'informazione libera ci saranno inevitabilmente delle cazzate dette delle castronerie bisogna evitare che gli effetti di queste di queste cazzate mettano in pericolo la vita di tutti quanti come si fa? in parte cercando di istruire in modo che le cazzate siano statisticamente sempre meno e poi nel momento in cui non sono più arginabili agendo non è stata non si è agito in quella situazione si è lasciata di generare una situazione si sono d'accordo anche perché poi lì si entra in una in una situazione strana dove un'azienda privata deve decidere di cosa si può parlare e cosa non si può parlare che è stranissimo no? cioè non si sono si a me tirano giù i video continuamente che cosa tirano giù nei video? ogni volta che si vede una fiamma ogni volta che si vede una fiamma quindi io praticamente l'ottanta per cento di quello che vorrei fare non lo posso fare non lo sapevo questo non su non su instagram ma su tiktok si che mi hanno detto è molto più stringente di instagram infatti è diventato estremamente io ho detto cazzo in una parola in un video tra l'altro grazie a te Puc perché ho parlato ho parlato ho parlato ho parlato di dick rating no? come si chiama? ma dai è dick rating si perché su su only fans c'è questa feature dove le ragazze possono votarti il caso io amo ma quella ma quella che offriva un dick rating gratuito mi scrive un messaggio mi fa oh c'è una che offre un dick rating affrettiamoci a corrette a corrette numero 2 un dick rating per chi ci sta ascoltando e non è un boomer come noi o anzi è un boomer al contrario di noi dick rating su only fans ci sono dei ragazzi che a pagamento ti votano la qualità del tuo membro sessuale la mazza e ho detto questa cosa parlando di only fans dicendo ragazzi comunque sono due modalità per guadagnare una è il trading l'altra è only fans ma ho fatto un parallelismo un po' provocatorio e un ragazzo che da poco lavora con noi che saluto Gabriele mi fa guarda stai attento perché su tiktok potrebbero bannarti l'account anche se solo dici cazzo anche se solo dici only fans non puoi neanche dire only di dire OF che è strano perché sono cinesi uno dice boh non so vai chissà e te quindi eh no sono cinesi ma io so che loro stanno facendo una censura bestiale di tutto ciò che può debociare tra i maschi quindi il porno only fans cioè proprio satana sì perché vabbè non so se possiamo se parliamo di stiamo andando a caso perché c'è non so se c'entra però avevo letto un articolo che Xi Jinping ha detto che ha un problema che che lo ha anche la Russia come tutte le autocrazie militarizzate post fasciste la gente non c'è un cazzo di voglia di fare la guerra e quindi questi siti questo nuovo modo di vivere i contenuti sono poco macio quindi di fatto producono esseri umani meno agguerriti meno disposti a fare la guerra e quindi ci sta che quella roba di Only Fans perché ho visto anche un documentario agghiacciante tra l'altro su Rai 3 dove Putin sta allenando e sta indottrinando i bambini alla guerra cioè praticamente tra l'altro adesso i quelli che ci seguono diranno Davide l'hai già detto ma per caso Davide ha frequentato una russa quest'estate questa signorina aveva un bambino un bambino piccolo e mi mandava i video guarda che mio figlio ha fatto il record di cosa mi manda il video del montaggio di un kalashnikov cioè mi diceva guarda si è sto bambino di qualità di mio figlio che monta il kalashnikov questo è un po' po' chi mi cazza figata e alla fine no cioè interessante questa roba e quindi alcuni video te li hanno bloccati su tiktok come non su instagram no esatto e invece quali sono gli esperimenti che ti hanno causato danni dolore dolore più grave sostanze sostanze corrosive tipo acidi acidi forti acido solforico molto molto concentrato acido nitrico per le vie respiratorie si formano tutti quegli ossidi azoto di cui parlavamo prima sono belli irritanti poi cose che mi sono esplose letteralmente davanti alla faccia ma ti sei mai ferito gravemente gravemente da dover finire all'ospedale no no sono ferite diciamo leggeri superficiali però sono state molto istruttive e poi ecco mi piaceva l'idea di rischiare di rischiare e beh cioè immagino che se non c'era col pepe lì non ti saresti addentrato eh probabilmente niente si cioè nasce comunque sempre tutto dall'amore per il fuoco quindi che cosa c'è di più bello di una reazione chimica violenta no perché lo vedo cioè lo vedo il mio figlio che è in quella fase in cui anche lui adesso inizia cioè per esempio ovviamente un'ottava più in basso no quest'anno ha voluto tutti i costi che facessimo il vino in casa perché il vino per lui che ha otto anni è una roba pericolosa trasgressiva trasgressiva poi dice ah ma poi quindi questa cosa sarà alcolica e alcolica c'è una roba che uccide le persone no io non posso bere no io l'annuso solo ma ecco e praticamente abbiamo fatto il vino e l'abbiamo fatto in casa tra l'altro è stata un'esperienza bellissima perché se non fosse per lui non avrei mai imparato a fare il vino in casa cioè vedere il processo di fermentazione eccetera e però abbiamo usato tutti come si dice i lieviti tutte le cose fatte bene insomma no vabbè quello poi è particolarmente importante perché se no veramente ti cagli sotto ecco o peggio bravo infatti volevo chiederti se chiedete però mi è anticipato perché poi a qualcuno mi ha detto no ma dovevi fare fermentazione naturale dovevi lasciare che tutto andasse secondo natura io invece ho letto più siti dicendo no attenzione perché potrebbero può diventare veramente pericolosa la fermentazione ma certo mamma cioè la chimica serve a questo a evitare di essere armagnati armagnati è perugino per dire rimangiati da sta cosa che è la natura matrigna che ci vuole morti a tutti i costi cioè noi viviamo un periodo estremamente breve di ordine delle nostre molecole brevissimo che non è affatto la normalità la normalità è la disgregazione di tutta sta roba è l'aumento di entropia di casino di disordine quindi cioè dobbiamo lavorare costantemente per rimanere ordinati e sani la chimica ci aiuta a fare questo perché se lasciamo tutto al macero a fare come la natura fa cresce qualsiasi cosa la natura è una casinista incredibile è una casinista cioè allora c'è un substrato facciamoci crescere tutto tutto quello che ci può crescere ci buttiamo sopra i virus i batteri le muffe i funghi qualsiasi cosa quindi che cosa devi fare di cercare di ordinare la natura in una maniera tale che a te non ti danneggia e quindi per esempio negli insaccati ci devi mettere i nitrati e i nitriti dici sono cancerogeni è vero sono cancerogeni ma sono cancerogeni in una misura così inferiore rispetto a quanto sia tossica la tossina botulinica che verrebbe fuori se non ci mettessi gli ossidanti i nitrati e i nitriti che accetti il trade accetti la scommessa ti mangi qualcosa di potenzialmente cancerogeno che aumenterà le probabilità che tu contragga il cancro nella vita per non morire molto probabilmente di botulismo che è una morte orribile in paralisi incredibile questo è proprio quello che abbiamo detto all'inizio della prima parte della puntata questa cosa che la chimica è sempre il male è pericolosa questa cosa stiamo andando verso una deriva pericolosa dal vaccino in poi adesso senza toccare il tema però è quello non c'è non c'è non c'è una risposta alla domanda la chimica è pericolosa oppure no non c'è una risposta perché è una finta domanda la chimica è pericolosa ma è necessaria le sostanze chimiche sono tutte possono essere innocue o possono essere pericolose ti faccio una metafora ti dico una metafora che mi viene in mente gli esplosivi rimaniamo sulle cose che scoppiano quanto male possono fare nella società gli esplosivi tantissimo ci puoi fare le bombe ci puoi fare la guerra puoi uccidere le persone puoi causare enormi sofferenze ma se non ci fossero stati gli esplosivi la dinamite per esempio non avresti potuto aprire la terra squarciarla e tirare fuori quello che ti serviva per vivere la tua vita in maniera più agiata rispetto a quanto non lo facesse una persona prima degli esplosivi senza gli esplosivi non puoi tirare fuori i metalli che ti servono per fare lo smartphone questo podcast non esisterebbe non esisterebbe neanche figurati adesso perché mi sto informando a riguardo ma non esisterebbe neppure una grandissima parte del cibo che noi mangiamo perché il processo chimico dal quale si possono fare i nitrati che sono un componente fondamentale degli esplosivi è un processo che è stato inventato da Fritz Haber per la produzione dell'ammoniaca l'ammoniaca è un atomo di azoto e tre atomi di idrogeno fondamentale per l'agricoltura per creare dei fertilizzanti per l'agricoltura Fritz Haber prima della prima guerra mondiale è riuscito a brevettare questo sistema che ad alta pressione combinando l'azoto con l'idrogeno riusciva a produrre l'ammoniaca ed è riuscito a produrre i fertilizzanti che contengono azoto perché è l'azoto che serve a ste piante per crescere va bene è riuscito a sintetizzare i fertilizzanti e ha centuplicato dico una una moltiplicazione a caso la produzione per esempio di cereali che servivano per far crescere la popolazione quindi Fritz Haber ha fatto i fertilizzanti ha reso ha raddoppiato la popolazione mondiale grazie alla sua scoperta e grazie alla sua scoperta si sono anche sintetizzati gli esplosivi che in parte sono stati utilizzati per fare la guerra e per far saltare le persone gli esseri umani è meglio aver fatto i fertilizzanti con cui tutti possiamo mangiare bene bene o è peggio aver fatto gli esplosivi o è meglio aver fatto gli esplosivi perché così possiamo tirare fuori i metalli che ci sarebbero per fare gli iphone che non è una domanda sì sì ho capito cioè dipende come la utilizzi è una conoscenza come tutte le conoscenze non è neanche una medaglia con due facce cioè è proprio un dado con cento facce ognuna può essere usata bene o male l'esplosivo lo puoi usare per aprire la cava o farci saltare un autobus di solito quando si parla di questa cosa si cita sempre la questione dei nazisti il fatto che abbiano fatto degli esperimenti atroci e delle ricerche hanno avuto un sacco di soldi per fare degli esperimenti per ovviamente fini bellici ma grazie ai quali poi sono state scoperte un sacco di cose che poi hanno permesso di vivere meglio l'umanità esatto no e sei d'accordo eh beh certo col senno di poi sì però non lo so fare esperimenti con lo specifico sapendo proprio scientemente che farai morire in maniera orrenda le persone lì magari certo no beh quello è ovvio no una cosa però ad esempio che hai detto sui fertilizzanti cioè è vero anche però che questa scoperta ha reso il suolo meno meno produttivo cioè adesso c'è un tema di suolo che è stato troppo iperfertilizzato che quindi è come se vi è stato troppo sfruttato e nel senso avendole inserite dall'alto queste molecole dal basso non sono state più prodotte quindi il suolo è molto impoverito in questo momento in tutto il mondo quindi la chimica in quel caso questo è un problema di noi esseri umani non della chimica cioè noi esseri umani tendiamo a usare le cose che ci piacciono in maniera smodata quando usi tutto in maniera smodata ne paghi le conseguenze se non lo so è tutto tutta la natura è un equilibrio un equilibrio di cose che si equilibra è una vicenda ogni volta che tu sposti questo equilibrio a favore tuo stai sacrificando delle altre sacche di questo di questo equilibrio e quindi introdurre tanti fertilizzanti significa per esempio che andrai probabilmente ad arricchire troppo le acque di alcuni nutrienti che faranno crescere enormemente le alghe per esempio che magari consumeranno molto ossigeno nell'acqua e quindi ci saranno delle morie di pesci ma questo è perché tu stai usando il fertilizzante in una maniera sbagliata in eccesso senza basarti anche sui cicli diciamo naturali di rigenerazione del suolo dando il tempo alla natura di recuperare proprio recuperare e quindi lo stai facendo perché devi mantenere un una grandissima quantità di persone proprio un numero elevato di individui e quindi comincia a diventare secondario sacrificabile tutta una serie di cose per esempio le acque interne dei fiumi d'america finché poi non ti accorgi che in realtà quell'equilibrio che tu hai spostato così tanto e hai distrutto questo ecosistema in realtà prima ti portava dei vantaggi anche economici che sono il motivo per cui si muove tutto quanto che sacrificando hai perso e quindi devi ritornare sui tuoi passi e quindi riequilibrare quell'equilibrio che hai distrutto è un tema di consapevolezza è un tema di consapevolezza non è che non devi usarli i fertilizzanti servono sono necessari se vogliamo se vogliamo essere vivi e mangiare tutto quello che ci pare tutti i giorni dell'anno e mi pare che qui siamo tutti concordi che lo vogliamo fare hai bisogno di fertilizzanti e ti dirò di più l'agricoltura l'allevamento biologico per esempio che sento spesso decantato non sarebbe assolutamente sostenibile per questa quantità di esseri umani non sarebbe sostenibile non ci sarebbe abbastanza spazio per tenere tutti i polli che tu vuoi allevare a terra non ce n'è non ce n'è più si è una cosa molto un po' radical chic come le auto elettriche adesso è provato che se tutti dovessimo passare le auto elettriche adesso non ci sarebbe abbastanza litio le linee elettriche non sarebbero sufficientemente capienti ci sono tutta una serie di problemi da tu address da come si dice da affrontare da affrontare da tener conto e la stessa cosa anche è lo stesso tema uguale anche quello dell'energia tutti o giustamente dicono dobbiamo investire il più sui rinnovabili ma abbiamo portato qui anche l'avvocato dell'atomo dicendoci sì però non basta il sole in certe nazioni non c'è dobbiamo tornare a nucleare non solo non basta ma probabilmente è una scelta sbagliata ci sono ci sono dei macrosettori in cui c'è una altissima produzione di gas serra di co2 associata a determinati settori della produzione umana uno fra tutti il principale è la produzione di cemento acciaio e materie plastiche che da solo fa un terzo delle emissioni di co2 del globo per alimentare queste industrie tu hai bisogno di una altissima densità energetica nel tuo impianto che produce elettricità quindi ti devi chiedere se io lo sostituisco il carbone o il petrolio o il gas che hanno un'altissima densità energetica densità energetica intesa come kilowattora o gigowattora di elettricità che produco per metro quadrato di spazio che mi occupa l'impianto va bene con cosa lo posso sostituire se la tua idea è lo sostituisco con il solare e io sono un sostenitore del solare parte del mio lavoro in Belgio è stato sviluppare delle celle fotovoltaiche organiche che non facessero uso di silicio ma di polimeriche una figata ma lo possiamo sostituire con il solare no perché la sua densità energetica il solare scusate inciso togliendo dalle scatole tutto il discorso che è una fonte energia intermittente la notte non c'è non è detto che non ci siano mai le nuvole e che i pannelli costa produrli occupa tanto spazio il problema è proprio quello che occupa tanto spazio e quindi hai una densità di energia molto bassa e quindi come faccio a sostituire il fossile con le rinnovabili non è praticamente possibile non è praticamente possibile perché non ti basta lo spazio non ti basta lo spazio e poi cioè sai vedi quei video no basterebbe coprire non lo so un terzo del Sahara di pannelli solari ma ma di cosa stiamo parliamo cioè ragazzi non si può non si può fare prima di tutto non so se riusciamo a produrre così tanti pannelli secondo i pannelli col calore diventano meno efficienti quindi eventualmente il deserto del Sahara sarebbe un luogo dove avrebbero efficienze anche abbastanza basse vanno puliti come si fa pulire la superficie di un terzo del Sahara l'ha detto che deve fare il giro del Sahara vatti a fidare del Nord Africa cioè noi dovremmo dipendere energeticamente al cento per cento dalla Libia dalla Libia ma tu sei fuori e poi scaldi il pianeta perché ricopre una superficie enorme di pannelli di pannelli che assorbono il calore quindi anche a livello climatico in grandissima scala si dice diminuisci l'albedo terrestre esatto non so se è corretto ma penso di sì cioè diminuiresti la quantità di energia solare che viene riflessa nello spazio e poi rimane il problema della distribuzione come cazzo la distribuisci? ma come la distribuisci? ma infatti anche persino Greta Thunberg o Thunberg come si dice ha detto ok sì bisogna andare al nucleare ah sì bisogna andare al nucleare ma certo ma bisogna andare al nucleare cioè è l'unica soluzione nella scala di appunto densità energetiche il nucleare dovrebbe essere ripeto non vorrei sbagliare ma dovrebbe essere la seconda subito sotto a i combustibili fossili per densità di energia la conosci questa vignetta di XKCD? putta ecco esatto no non la conoscevo ma è bellissima è bellissima allora qua la descrivo ma non è possibile la descrivere prova a descriverla tu va beh allora intanto per Spotify ciao amici di Spotify l'efficienza sappiamo che ci siete anche voi la densità energetica tra le diverse di diverse fonti in megajoule per kilogrammo solo che poi dice guardate che cioè questo è un problema causato dal fatto che non vuoi usare le scale logaritmiche perché se usavi una scala logaritmica non c'era bisogno di usare tutta questa carta vabbè non hai descritto un cazzo no vabbè sono le ah beh certo la densità energetica abbiamo un istogramma abbiamo 46 megajoule per chilogrammo di benzina e sono 76 milioni per chilogrammo di uranio quindi completamente off the chart sì esatto letteralmente quindi la soluzione c'è la soluzione c'è come viene comunicata viene comunicata in maniera molto schifosa cioè adesso mi viene in mente Conte ma solo perché ho sentito lui per ultimo mi è venuto in mente Conte però Conte che così haizzato dalla folla a parlare che dice dagli intervistatori no noi siamo contro al nucleare perché attualmente una una come cazzo si dice una centrale nucleare che non produce scorie non esiste quindi non la vogliamo ma di che cazzo stai parlando cioè noi stiamo letteralmente affogando nella CO2 ci sono scarichi di gas serra che stanno soffocando il pianeta tossici che liberano una quantità enorme di zolfo nell'atmosfera di ossidi di azoto quindi dei veleni in più le stazioni del petrolio e del gas e del carbone è assolutamente inquinante di per sé e causa la morte di un sacco di persone e tu mi stai a vedere se la centrale nucleare produce scorie che potrebbero entrare qua dentro esatto produce meno scorie sono solide sono a parte esatto perché il problema è quello perché è giusto dire vabbè ma quante scorie produciamo pochissime con il nucleare pochissime rispetto alle miliardi di tonnellate 50 miliardi di tonnellate all'anno se non sbaglio di gas serra che noi emettiamo con le nostre con le nostre produzioni energetiche e di materiali contro l'avvocato dell'atomo aveva detto in tutta la vita un uomo se andassimo a nucleare una lattina una lattina ma di che parliamo basta una stanza con le pareti piombate di cemento armato in modo che queste cose non vengano sversate o perse che è esattamente quello che sta succedendo con tutte le altre fonti energetiche fossili non rinnovabili attualmente però non ce ne rendiamo conto e la politica comunica questa cosa del nucleare su bassi di sentimenti mal di pancia guarda il lavoro invece che sui dati i politici alla fine abbiamo capito che dicono quello che la maggior parte delle persone vogliono sentirsi dire quindi anche qui qual è il trucco è divulgare 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 educare educare fino a quando poi i politici quando avranno dei sondaggi che diranno ah ma il 55-60% degli italiani è d'accordo al ritorno del nucleare nuova generazione e lì faranno la gara dire no ma io come la Meloni che aveva detto no non bisogna trivellare cioè nel 2000 ma neanche due anni fa bisognava trivellare il mare adriatico no noi siamo contro trivellare il mare adriatico perché ci teniamo l'ambiente adesso invece dice la prima cosa che faremo è aprire tutti perché è cambiata la percezione quindi loro cioè per quello che si connette a quello che dicevi tu prima quando la gente la gente noi tutti noi tutti io mi ci metto loro e noi ma sono assolutamente dentro a questi sistemi come tutti caschiamo tutti quanti noi nella tranello di dare così tanta importanza ai politici quando invece i politici se uno fa un passo di consapevolezza si rende conto che fanno quello che gli diciamo noi cioè magari 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 ci fosse il leader politico che fa qualcosa di alla Churchill che non siete d'accordo perché al momento siamo noi che siamo in crisi non chiedere al tuo governo cosa può fare per te ma chiedi tu cosa puoi fare al tuo governo è la cosa più distante da quella che accade nella realtà come diceva Kennedy e questo è quanto quindi bisogna lavorare nella divulgazione piano piano il meno male che c'è Dario Bressanini allora è l'avvocato del lato certo il Gio Pop certo e invece sempre no devo assolutamente farti vedere queste cose volevo sapere se conoscevi a proposito di energie le piastre di Tesla o di Koldov provo a farle vedere cosa si riferisce e sono che cosa vi riferite ci sono su alcuni shop online di cose diciamo legate alla benessere fuffarolate io conosco le Tesla coil ma che cazzo non l'ho mai visto la piastre di Tesla vai su vai su vai su le piastre di Tesla sono fatte di alluminio anodizzato lavorano come un'antenna quindi come le finestre degli anni 80 quella roba là che tra l'altro scusate breve inciso ma chi cazzo è il rincoglionito che ha pensato come faccio a tenere fuori il freddo e dentro il caldo uso l'alluminio con l'alluminio che c'ha una conducibilità termica esagerata l'alluminio se gliele facevi di rame erano ancora più contenti erano ancora più freddi d'argento io vedo l'acqua che condensa durante l'inverno sulle mie finestre d'alluminio anodizzato scusa vai avanti le piastre di Tesla sono fatte di alluminio anodizzato e lavorano come un'antenna che convoglia quella che lo scienziato definì energia cosmica esse creano un campo benefico che accelera il benessere migliora l'umore e contrasta i campi i campi il Bisenzi non lo so dove l'hai finito non lo so i campi elettromagnetici i campi elettromagnetici così diventiamo ciechi non vediamo più non vediamo più ti posso lo dobbiamo comprare no così rule of thumb quando su questi siti qua su questi prodotti che ti vengono venduti trovi parole come attirare energia onde cosmico cosmico campi elettromagnetici e sono cazzato cioè rule of thumb rule of thumb significa nove volte su dieci vai sul sicuro che la regola quindi non lavorano sulla psiche e sulla kundalini queste cose io cioè mi dispiace non so di cosa parli e invece ne abbiamo un altro abbiamo questo prodotto che volevo chiederti se è approved da Kimikazza che è il magma 13 radiance panel che è un energizzatore per la cucina ecco anche energizzatore energia è fluire cose tutte queste cose che tu ti immagini queste aure colorate di luce che ti penetrano dentro magma 13 è un'unità fondamentale portatile della linea magma 13 che combina l'essenziale eleganza italiana con l'eccellenza della tecnologia per la protezione e l'armonizzazione personale magma 13 seed genera uno specifico campo energetico adattogeno di natural radiance energy intorno al petto ecco questa è una cosa che ti metti su un ciondolo per supportare la capacità insita nel corpo di gestire fattori di stress ambientali e biologici la formula del magma 13 potenziato attenzione perché prima c'era quello di sale rosa delle malai hanno visto che gli ioni nell'aria non producevano abbastanza benessere e quindi hanno potenziato agisce come modulatore della risonanza cellulare in grado di potenziare le capacità di recupero e rigenerazione nate sul corpo approvato approvatissimo ma guarda io ti dico ma io sono contento che la gente compri queste cose la gente che noi tutti compriamo questi prodotti è bello è bello che ci sia varietà in quello che la gente ritiene importante nella vita poi dopo a 60 anni non venite a romper il cazzo a me se non siete soddisfatti per qualcosa perché voi il prodotto per risolvere i vostri problemi l'avete comprato no? sì sì perfetto e poi ancora c'è un altro che vorrei affrontare con te che è questo materiale che si chiama la sciungite lo conosci? che la sciungite la gengivite la mingite no ma non lo conosce no che cazzo è? no questa la fa sdraiare perché lui fino a qualche anno fa lui se l'era comprato lui mi parla di sciungite io non ho trovato su wikipedia che cos'è è un termine medico o non lo conosco c'è solo su macro librarsi la sciungite non c'è un articolo su wikipedia già non vi fio tanto la sciungite è un minerale organico che si trova adesso c'è su wikipedia allora vedi magari c'è una ragione l'hanno fatta adesso secondo me hanno ragione ragazzi la sciungite non lo conosco c'è il link è un minerale organico che si trova solamente in un luogo sulla terra nel nord ovest della russia vicino al mar bianco in carelia sulle rive del lago onega nel villaggio di sciunga la regione carelia è l'unico posto del mondo in cui si può trovare la sciungite grazie alla sciungite è possibile armonizzare non solo la persona ma anche l'ambiente questa pietra il c60 il fullerene lo usavo nelle celle fotovoltaiche te lo giuro ti dico di più tu quando me l'avevi venduta me l'avevi venduta come che era figa perché aveva tutti gli elementi chimici dentro che sarebbe l'apocalisse un'esplosione corrosiva una cosa atomica invece è carbonio adesso qui invece che dice quasi interamente carbonio quasi interamente fatto di carbonio no forse che il fullerene come del resto è la carbonella allora vi posso dire che è fuligine è fuligine perché il fullerene la prima volta che l'hanno isolato l'hanno trovato dentro la fuligine questo all'otropo del carbone che è la cosa tra l'altro più è più diffusa ma anche l'emblema del vaderetro cioè non voglio la fuligine è una roba tossica fa male tra i polmoni no 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 la sciungite voglio un bel cristallo guarda te lo porto è approvato approvatissimo bellissimo poi era forma di anal plug che avevi comprato sì perché c'era io avevo preso un uovo di sciungite che lui mi fa ma ti sei comprato un anal plug da tenere al collo sempre così no da tenere come soprammobile ah ok quando sei triste lo ciucci quando sei più triste te lo vichi esatto esatto ragazzi beh però è così cioè nel senso magari c'è allora magari c'è nella puntata precedente così ci autocitiamo come fanno i grandi cioè ci hanno spiegato che ci sono delle cose che funzionano e funzionano senza un motivo spiegato dalla scienza no tipo l'effetto placebo eccetera magari queste cose qui che non hanno nessun fondamento scientifico però magari per una persona gli crea quell'autoguarigione hanno uno storytelling tale per cui già di base uno ok si fa la sua storia se la ordina se la porta anche c'è una sorta di legame estetico di narrazione e funziona non sono ferrato sull'effetto placebo né sulle cose che sembrano funzionare senza una spiegazione anche perché spesso noi esseri umani tendiamo a confondere la casualità con la causalità va bene quindi immagino che su un campione sufficientemente grande di individui per esempio io ripeto non conosco nel dettaglio che cos'è l'effetto placebo ne ho sentito parlare so a che cosa stiamo facendo riferimento ma non conosco in medicina quanto sia studiato né quanto sia effettivamente efficace per risolvere i problemi della gente però in un campione sufficientemente grande di persone immagino che ci siano per esempio dei casi di remissione da una malattia spontanei una spiegazione c'è sicuramente il fatto che tu non la trovi e magari attribuisci all'effetto placebo il l'efficacia del risanamento o della cura della guarigione magari è un errore tuo che stai 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 dicendo che è l'effetto placebo che ti ha fatto tornare in salute ma è semplicemente una cosa spontanea perché nel tuo corpo in quel momento si sono attivati determinati recettori delle sinapsi oppure attivati determinati geni o prodotte determinate proteine o anticorpi che ti hanno fatto rifunzionare va bene quindi non so immagino che in un campione sufficientemente grande noi tendiamo a dare tendiamo a dare la spiegazione non c'è spiegazione è l'effetto placebo quindi è qualcosa che ancora non siamo in grado di misurare esatto ogni volta che c'è qualcosa che non ti riesci a spiegare è perché mancano i mezzi a te non perché non ci sia una spiegazione ma c'è quasi qualcosa di irrazionale che fai tu di irrazionale nella tua vita un rituale prima di fare un video ti dici una nave maria no ma sono pieno di tic sono stato pieno di tic nella crescita soprattutto ma credo che sia una cosa abbastanza comune penso di essere per me è veramente difficile rimanere concentrato per così tanto tempo cioè ve lo dico io sono quasi sicuro che se fossi nato e cresciuto negli Stati Uniti sarei sotto Adderall perché mi distraigo con qualsiasi cosa con qualsiasi cosa perdo il filo del discorso sono un groviglio proprio c'ho il cervello fatto di spaghetti e quindi dicevo nella mia crescita ho avuto tantissimi tic tantissimi tic perché erano legati a delle convinzioni così mie del che se non portava termini in rituale di qualche tipo che può essere semplicemente una spalla una cosa un movimento succedeva qualcosa di brutto sono cose totalmente illogiche sono pieno di anche blefarospasmi o movimenti delle mani soprattutto quando fumo non so perché questa cosa quando fumo le sigarette mi piglia la mano che deve fare così per forza ma quella con la sigaretta o l'altra? quella con la sigaretta tendenzialmente o la spalla non so mi fa male tutto infatti sono pieni problemi shotalgie e cose mi faccio male ma quelli sono tutti i gas che ti sei respirato quelli probabilmente sono tutti i gas ma guarda come diceva qualcuno molto famoso della chimica preferisco respirare appunto la fuligine tutti i fumi piuttosto che essere del mondo l'uomo più ricco del mondo non mi ricordo preferisco i miei gas tossici anche noi Ale grazie che dire dove ti possono venire a conoscere le persone? su instagram su tiktok speriamo il prima possibile anche su altre piattaforme devo trasformare questa cosa in un lavoro per portarla su altre piattaforme diventa il Nile Red italiano anche perché lui fa un video all'anno quindi c'è bisogno di qualcuno che prenda il suo posto grazie Ale figata grazie a voi veramente figata siamo divertiti tornerai sicuramente se lo vorrai a voi è diventata proprio una cosa tra amici figata grazie mille grazie mille ciao ciao a tutti questo è il Bazzare Atomico alla prossima grazie a tutti